Oggi rimozione di un problema estetico piccolo che sembra banale, che è un nego del lobo auricolare, che impediva la mia paziente di indossare gli orecchini. E quindi vi faccio vedere come in pochi minuti abbiamo risolto un inestetismo che sembra banale ma può creare grande disagio. Non sei contenta di toglierlo, Nada? Assolutamente sì. Pensa esteticamente quanto... Questo più era bruttissimo. Infatti ecco ho cercato di velocizzare perché non lo potevo più tenere. Quindi questo è un nervo dermico, i nevi termici delle zone del volto, in questo caso vabbè l'orecchio, diciamo, sull'estremo cefalico, crescono nel tempo. Quindi un neino fa inizio, è di, non so, uno spessore di mezzo centimetro, negli anni raddoppia. Esatto, questo qui è proprio raddoppiato. Quindi questo è come uno scarpello di luce che porta a sublimazione della pelle, quindi fa passare il neo dallo stato solido, dallo stato gassoso in maniera immediata. Non fa sangue, funziona bene. Nel senso che, ecco, riusciamo... Tu era come se c'avevi un neorecchino. Esatto. Adesso metterai l'orecchino perché prima era così, adesso è un po' piatto, quindi riesci a mettere l'orecchino. Non ce la facevo pure di più, perché poi io li mettevo sempre, sì. Certo, come tutte noi donne accorti, qui ci siamo. E' uno. Poi dopo ti faccio la medicazione tutta insieme, quindi questo neo che era così, diciamo, una palla, adesso non c'è più, vedrai che bello quando gli do lo specchio. Grazie. Grazie.